Sì, ma sono tutte partite difficili da quella fine, soprattutto con le squadre che devono salvarsi, devono fare punti, sono agguerrite, quindi non c'è nessuna partita facile. Loro sapevamo che sulle palline attive sono forti, soprattutto nel primo tempo dove avevamo il vento contro, quindi era difficile. Manuel, tre partite che giochi da trequartista, tre partite dove a mio giudizio hai fatto la differenza e stai esprimendo un valore davvero molto importante, un livello tecnico importantissimo. Io cerco di fare il massimo possibile in tutti i ruoli, il mister mi ha cercato di mettermi in un ruolo diverso perché abbiamo cambiato modulo, io mi adatto e cerco di fare il massimo. Secondo me è anche molto meglio rispetto all'esterno. Sono due ruoli diversi che vanno interpretati in modi diversi. Ti piace di più a te? Io naturalmente preferisco giocare esterno perché sono nato lì, però mi adatto e va benissimo anche a trequartista, sono giocate diverse e con spazi diversi. Con il nuovo modulo, sette punti, pareggio di Foggia, la vittoria di Crotone, è successo di oggi con il Padova, è un caso che il Pescara con il cambio di modulo sia tornato a far risultato? Io penso che più che il modulo sia la voglia che abbiamo in campo, che abbiamo messo in queste tre partite, si vede il sacrificio di tutti, da partire dai attaccanti, da Mancusa, da Monachello. E si vede, sono loro che iniziano il pressing e riusciamo a stare più compatti, più stretti. Però manca il gol di Marras, ci stai provando un po' in tutte le partite, ancora riesci a sbloccarti, ti pesa questo fatto? Ma sinceramente finché la squadra va così, vinciamo le partite, sono felice che facciano con gli altri, poi in tutte le azioni diciamo che riesco ad entrarci, quindi va bene così. Ci spieghi come stai interpretando un po' questo ruolo? A Foggia nei primi 15 minuti non hai fatto capire praticamente nulla alla difesa rossonera del Foggia, Crotone l'hai interpretata a 360 gradi anche oggi, ci spieghi un po' il tuo concetto? Ma sono partite tutte e tre diverse l'una dall'altra, oggi abbiamo fatto la partita noi e quindi avevamo più spazi e eravamo più libri davanti di interpretare le giocate in modo che quelle che sappiamo noi, con gli 1-2, nei spazi stretti. A Foggia era una partita come a Crotone, una partita più di intensità, di pressing e quindi siamo riusciti ad andare alti e a riconquistare la palla alta. La partita di oggi ha detto che non esistono gare difficili, la memoria va a quella gara andata, a quella partita dell'Euganeo quando eravate in vantaggio fino al novantesimo, poi ci fu quel rocambolesco recupero e i due gol del Padova. Sì, infatti anche oggi ci siamo un po' arrabbiati sul tiro di Cappelletti quando ha parato a Fiorillo perché sappiamo che tutte le partite vanno giocate fino alla fine e anche gli ultimi dieci minuti poi diventano un arrembaggio, quindi è importantissimo non subire gol. Manuel, tu sei uno dei tre giocatori del Pescara in diffida, però adesso sei fondamentale e insostituibile. Secondo me nel secondo tempo quando ti è scappato via un avversario ci hai pensato un attimo? No, vabbè, ma è una cosa che non ci deve limitare, però ovviamente un minimo ci pensi perché è una partita importantissima martedì e vogliamo esserci tutti. Parliamo un attimo, tornando a parlare di questa partita, dell'ambiente. Oggi anche per via di questo vento pazzesco, c'era poca gente sugli spalti. Insomma, fa impressione vedere lo stadio adriatico con così tanti vuoti, con una squadra terza in classifica. Voi dal campo che cosa avvertite? Come vivete questa, diciamo, un po' freddezza del pubblico? Vabbè, ma noi sentiamo i tifosi vicinissimi, infatti siamo veramente contenti che vengano e ovviamente si vorrebbe sempre di più, però non dipende solo da noi e anche se siamo lì in alto cerchiamo di fare il massimo possibile per renderli felici. Obiettivo solo play-off oppure? Obiettivo fare il meglio possibile da quella fine.